Mentre a breve dovrebbe aprire il tratto ispica a Modica dell'autostrada Siracusa a Gela, c'è un finanziamento di 350 milioni di euro per il tratto da Modica a Scicli, di cui non si sa più nulla, è quanto dichiarato dal parlamentare regionale del Partito Democratico all'Assemblea regionale siciliana Nello Di Pasquale durante l'intervento di ieri a Lars. Di Pasquale quindi chiede all'assessore Aricò di verificare lo stato d'opera. Lo stesso Aricò spiega il parlamentare Dema, a margine della seduta, ha assicurato che per il tratto ispica a Modica non ci sono problemi di risorse e che questo tratto della Siracusa a Gela sarà aperto entro metà di luglio. Mi sono permesso tuttavia continua di Pasquale di sollecitare il governo affinché si verifichi che fine abbia fatto il finanziamento nazionale del 2022 del 350 milioni di euro sotto forma di anticipazioni del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 per un altro tratto dell'autostrada, il lotto 9, che da Modica dovrà arrivare fino a Scicli. Purtroppo di questo finanziamento e delle relative procedure di gara non si ha alcuna notizia. Ho ricordato al governo e all'Aula tutta che ovviamente lo scopo è quello di arrivare fino a Gela quindi ho sollecitato l'avvio della procedura per il lotto 10, quello che arriva alla città di Vittoria. Durante l'intervento in Aula, il parlamentare Ibleo è tornato anche a parlare del CAS e del nuovo bando per il servizio antincendio sulle autostrade gestito dallo stesso consorzio che è stato risirato in autotutela. Non è possibile che un bando che è stato al centro di un immenso polverone giudiziario ha fermato di Pasquale ancora sia stato riproposto identico nelle modalità maggiorando solo l'importo di assegnazione lavori. Su questo ho chiesto che sia avviata un'indagine interna all'assessorato per chiarire come possono accadere cose simili.